Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso mercoledì 20 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da un CEO Summit intitolato Mobilità Sostenibile e Community Engagement, per una maggiore attenzione al territorio e collettività, moderato dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards ha dedicato particolare attenzione al mondo della mobilità e del public affairs, premiando le eccellenze del settore. Lo studio legale dell'anno Responsabilità Medica, il premio è assegnato questa sera lo studio legale Sgromo. Andiamo a leggere la motivazione, mentre si avvicinano al nostro red carpet, per avere una storia di oltre 50 anni nella gestione di casi legati alla malasanità, rappresentando clienti che sono stati vittima di un errore medico. Per la professionalità, la grande esperienza e la massima attenzione al cliente su tutto il territorio nazionale. Eccoli qui, studio legale Sgromo. Il team. Buonasera. Allora, un po' più avanti e un po' più stretti. Complimenti, grazie. Complimenti. A Elefonte Awards siamo in presenza dell'avvocato Bruno Sgromo, founder dello studio legale Sgromo. Il vostro studio si occupa esclusivamente di malasanità e per il quarto anno consecutivo è stato premiato a Elefonte Awards in quanto eccellenza in questo settore. Quanto è importante rivolgersi ad uno studio come il vostro per ottenere un risarcimento in caso di danno? Allora, importantissimo perché strutture come la nostra sono organizzate in modo che le pratiche, quindi i casi, vengano selezionati nel modo migliore. Intendo selezionati tramite dei medici specialisti che quindi ci dicono se è il caso di portare avanti un caso o invece no. Quindi abbiamo l'oncologo, il ginecologo, il chirurgo, tutte le specialità in modo che siano loro che ci dicano se la causa è da portare avanti o meno. Agire per le vie legali in questi casi può richiedere un ingente esborso economico? Di solito queste sono cause costose, però quando ci si rivolge a strutture come la nostra non lo sono per il cliente perché noi anticipiamo tutti i costi e assicuriamo che anche nel caso di esito negativo il cliente non abbia nessun tipo di esborso. Quindi ci assumiamo il rischio di portare avanti la causa e quindi il rischio anche della parte economica. Ci vuole illustrare alcuni dei casi più interessanti che avete risolto di recente? Qual è l'approccio che avete adottato in questi casi? Casi interessanti, drammatici, il caso per esempio di un ragazzo, di un uomo di 48 anni morto per una scessa a un dente, un altro caso sempre di un 50enne morto a seguito di una frattura al malleolo in quanto non gli è stata somministrata l'eparina. Questi sono dei casi estremi, purtroppo ce ne sono tanti e vanno seguiti, vanno seguiti per il meglio e bisogna poi portare il risarcimento alle famiglie.